Qui abbiamo notato due elementi fondamentali, la perseveranza della famiglia andare avanti e l'assenza totale e permanente da parte dello Stato, al quale abbiamo più volte noi sollecitato un intervento sempre disatteso e la famiglia ha dovuto pertanto farsi carico lei di poter andare avanti per arrivare a un senso di giustizia più che altro e quello che abbiamo ottenuto oggi. Sono passati 17 anni da quando Simone Mazzi, un giovane vigio del fuoco, ha perso la vita nel dirupo che vedete alle mie spalle per soccorrere un camionista. Per quanto accaduto e dopo una lunghissima e durissima battaglia giudiziaria, finalmente la famiglia ha vinto contro lo Stato ed è stato disposto un risarcimento. Secondo la sentenza di primo grado del Tribunale Civile di Firenze, il Ministero fornì un'autogru difettosa. Mazzi perse la vita durante le operazioni di recupero di un autotrasportatore uscito fuori strada a Palazzo del Pero finito nel greto di un fiume. Nel calare appunto questo gancio a cui venne inizialmente attaccata la barella Toboga e con il vigile Mazzi, questo filo si spezza, questo gancio si stacca e purtroppo colpisce alla testa Simone Mazzi. In sede penale ci sono state tutte assoluzioni ma la famiglia non si è resa ed è andata avanti. Oggi questa è una vittoria anche per tutto il corpo dei vigili del fuoco. Simone Mazzi era uno dei lavoratori ma sono tanti Simone Mazzi dentro i vigili del fuoco, dentro i carabinieri, dentro i corpi dello Stato che forse un po' più di attenzione, un po' più di cura per quanto riguarda la strumentazione che viene messa a disposizione dal datore di lavoro sarebbe importante per ciascuno di questi personaggi che lavorano in settori così delicati e che sono diventati eroi in tante occasioni. La mamma non ci ha parlato perché era molto commossa, ha parlato con il fratello e la mamma si è messa a piangere quando l'ha visto però ha avuto questo senso di riconoscimento che è morto sì ma è morto non per disattenzione sua, per problemi suoi ma per responsabilità di qualcuno che avrebbe potuto evitare la sua vita.